Tragedia inaspettata, morta pochi minuti fa, tutti in lacrime. Ciao a tutti, sono Elisabetta Gregoraci, e oggi ho bisogno di condividere con voi un momento molto personale e toccante. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi è un giorno che mi vede pervasa da una profonda tristezza. È un giorno di lutto, un giorno in cui ho perso qualcuno di incredibilmente speciale per me. E voglio condividere con voi questo dolore, perché siete come una famiglia per me. Nelle ultime ore, ho sentito l'impellente necessità di onorare la memoria di questa persona straordinaria che è stata parte integrante della mia vita. Il messaggio che ho pubblicato sui miei social ha ricevuto un sostegno straordinario da parte vostra, i miei cari fan, e ciò dimostra quanto amore e affetto nutro per la persona che ora non è più tra noi. Oggi, venerdì 27 ottobre 2023, ho detto addio alla mia adorata nonna. Una donna straordinaria, che ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 102 anni lo scorso 25 agosto. In occasione di questo straordinario compleanno, mi ero recata in Calabria per organizzare una festa memorabile in suo onore. Le parole che ho scritto per rendere omaggio alla mia cara nonna sono profondamente toccanti. Avrei desiderato con tutto il cuore che questo giorno non fosse mai arrivato, ho pregato e sperato intensamente. Ma purtroppo, oggi ho dovuto dire addio a lei, alla mia adorata nonna Elisabetta. Voglio condividere con voi alcune foto dei momenti felici trascorsi insieme a lei, in particolare durante la festa per il suo 102esimo compleanno. Le sue memorie sono un tesoro per me, e voglio mantenerle vive nei nostri cuori. Vorrei ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno incondizionato e per le parole di conforto che mi avete dedicato. Ricevere messaggi di forza e affetto da parte dei miei fan e da personaggi famosi come Massimo Vine e Paola Caruso è stato un grande conforto in questo momento così difficile. La mia nonna resterà sempre nel mio cuore, e sono grata per l'affetto e la solidarietà che avete mostrato. Grazie di cuore a tutti voi.